Io c'ho Pandoro 5 Sì If you like Moodle video you will love Moodle life Spiega che cos'è questo server Allora ciao ragazzi io e Vic abbiamo detto Senti un po' siccome Pandorums È finita e vaffanculo È bello giocare a Minecraft in compagnia Perché non facciamo una serie Chill dove possiamo giocare Divertirci e basta Già questa cosa è diversa da Pandorums No non è vero scherzo Perché non facciamo Perché non facciamo una serie Dove possiamo fare quello che vogliamo Con un sacco di obiettivi in più però Con un botto di obiettivi in più Esatto sono tipo mille Ci sono mille obiettivi Facciamo Muson l'obiettivo della serie La serie non finisce finché non finiamo gli obiettivi Oh mommy why you do this to me Però che senso ha la serie È giusto Come faccio vedere gli obiettivi Ma che può entrare Entra Non entra Entra Non entra Entra Posso dire che questa cosa è venuta meglio Che le cose Non può entrare Brute c'è anche le scarpette che usa nei video No io però io odio quell'uomo Cosa? Non può entrare Non sopporto più veramente Però come lo fa Andrea va bene Sì comunque gli obiettivi La serie non finisce finché non finiamo gli obiettivi La serie non finisce finché Andrea non viene Finito Let's go Attenzione che da un momento all'altro Qualcuno potrebbe ruttare Ho quasi vomitato Se clicchi L Vedi gli obiettivi In teoria Robi in più che si sono bloccate E piantare Vorrebbe aprirsi altre anche Ma voi cosa ci avete aperto? No cos'era quella epic? Cibo Dovevo mangiare Let's go Sì è così Sì Mi faccio un albero Mi faccio un albero Mi faccio un albero Ho fatto la sé Why you Ha già fatto l'obiettivo Advanced Eh bisogna vedere se per caso sono In comune Vabbè lo scopriremo Avete già fatto la crafting? No Uno che prova a farlo? Vado a prendere del lane Aspetta Ma ragazzo state Why you Sto uccidendo le pecore Sta arrivando La notte pericolosa Mi è uscito un mucca Prendo cazzotti Madonna mia Però Secondo te Secondo te è fattibile Uccidere una mucca A cazzotti Ho ucciso tre pecore Quindi Hai ucciso le pecore? Sì Io non ho la roba delle mucche Non è la roba delle mucche No No Bench Eh no io non ce l'ho a benchmarking Quindi Non è Non è comprensivo di tutti Eh sì Bisogna vedere come Come fare Sennò Dovemmo completare gli obiettivi Separatamente Ma Enzomma Enzommu 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 Sentite voi dove cazzo siete? Squi Sto fermando le m Squi Squi Aspetta mi serve fare una Bella Un bel piccone Oh mi bella Maduni Ciao ragazzi ciao Hola Guarda cosa ho fatto Ma vabbè Guarda cosa ho fatto io Yo brothers Oh Ho fatto anch'io almeno No Vic Fallo anche tu Ma Vic è morta Mi date un pochettino di pietra? Eh la sto farmando Ma do però veramente qua Rai spiri e fai achievement Incredibile Hola Hola Allora Perché ho tre alberelli Ah ok Sono tipo Ok Nice Vichè è stato bruttissimo Non c'eri più Non sapevo più cosa fare Sono ritornata Serve un po' di pietre Che dobbiamo fare una bella fornace Fornace la faccio io Cosa? La fornace Ah brother Avevo capito Fornace No vabbè Hai capito in inglese Io ho un po' di fame ragazzi Oh Ho due pezzi di lana Io ne ho quattro Ok mami Possiamo farne due Tieni Colore diverso Perfetto Non possiamo farne due Sì si vuole lo stesso Si vuole lo stesso Che senso Che cazzo non so Serve il colore uguale Non si può fare con due colori diversi Siamo uguali anche se abbiamo colori diversi Coglione Ho capito Ecco Mangiati questo va Mangiati la merda Ma perché Mi stai insultando un po' troppo oggi Andri Andri poverino non ha proprio parlato Ah E tu che fai l'avvocatesso del diavolo Eh Ah Uso puoi usare anche questa crafting table Non credo sia una diversa No lui vuole usare la sua Io uso la mia perché Ma non mi fare male Fa male Io un po' di mezzo Lo prendo Ah divento ne Eccolo Eccolo What the fuck Non cuociono nulla Eh Non cuociono nulla Mac Ok ho messo il legno Non so da prendo altro legno Ah Tipo colorare la lana Ah si è vero che abbiamo i fiorellini qui Hai visto che ho detto una cosa utilissima Chi è? Sì va bene Ok Perfetto Sì però io non Che Uuu Anch'io ho fatto il letto Io dormo in mezzo No Così però Ok Così Andri Non mi cazzo di piedi Splat è un creeper Perfetto Chi è che sozza Che cazzo Che cazzo vuoi Che cazzo vuoi mi guarda Dici che ha sofferto? No Mi sa di sì Forse è un pochino Ma come? Che bello Stephen McRiff Vanilla Aspettate una roba Io proporrei una cosa È 21 e 35 5 minuti dove ammazziamo più animali possibili Poi ci ribecchiamo qui A 40 Prendiamo tutta la carne Andiamo in cerca di un bioma bellino Dove costruire il nostro villaggio Che roba brutta Che hai detto vecchio Cosa ho detto? Brode Non ho detto nulla di male Te lo giuro Piove Piove È tempo brutto In città Sono andati via Sono andati via le shader Ma le quelle pioggia vanno via le shader Visto? Non si può tagliare la pioggia Sì No No Eh Eh Oh State cattiva Stai Go 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 Come Ma questo è il tridente Ma te dove stai andato? Te stai avessi fatto tutto questo? E che è esploso ragazzi? Tu No Non lo so Ah no Esploso un t Chi ha trovato meno cibo Subisce una posizione Ok Spero di essere io Vi prego Legatemi Non era quella la punizione Vabbè ok Io Non mi fate annusare i vostri piedi Vi prego No no Prendo questo Lo prendo Mi sento surreal power nel periodo d'oro Cazzo Mi fotto i zombie come suri nel periodo d'oro Come? Eh Bam Bam Comunque la mamma che fa l'obiettivo sugar sugar Quanto cibo hai musus? 13 Minchio il temporale Io ho 14 No non è vero è vero 9 di raw beef 7 di chicken E 1 di Mutton Per un utile di 17 Ma quanto poco hai farmato? Ma vattene a fanco 16 di raw beef 14 di pollo 6 di 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 a tutti quanti che fai abuso di potere contro gli animali inermi Io invece di ci parlavo ok brutto coglione Scimpanzè Quindi mi facevi soffrire Sì Eccomi Ciao mammi Ciao Ciao Dai Dai Ciao No Guarda l'arcobaleno No Ma è normale? In che senso dopo la pioggia il sole Ho capito ma siamo su minecraft Vala quel bastoncino come fluttua Cazzo la scheggia Dai rompo il letto andiamo ragazzi Amici Mangio Biglio tutta la carne E fuggi Fuggi come non mai Ma quindi come la chiamiamo sta serie? Dobbiamo decidere O decidiamo No allora se la chiamiamo Pandoro 5 Io non c'ho voglia di leggere quei commenti su youtube No no Non facciamo decidere È il primo episodio di Pandoro 5 su youtube Ok ok mi piace Oh Vic facciamo così Allora ci facciamo così Al prossima volta Cioè dopo che esce questo Questa cosa Scegliamo i commenti Con il nome della serie migliore Tra i miei commenti e i tuoi commenti E decretiamo il vincitore Ok E da lì in poi Prenderemo il nome della serie Yeah Vorrei dire che non va bene Già ve lo dico Marcia su Roma non si può chiamare ragazzi Perché? Ma come perché? Allora Alla ricerca di un bioma Se cosa mi piacerebbe anche darlo Con un nome tipo non so di un anime What? Bokuno Minecraft In che senso anime? Da quando? Andrei l'ha capito Bokuno Craft Bokuno Craft Main no piku Sto tirando fuori le uniche cose Che conosce degli anime Sì Quello che si fa i bambini no? Vabbè Animal dove siete? Hai mai guardato un anime? Ho guardato Attack on Titan Hai visto tutto? No no Quanto hai visto? Eh 20 episodi Ah ok E perché ti sei fermato? Perché non mi piace il cazzo Che c'entra? Ma io ti dubbiaggiano gli anime Guarda Andri per esempio Eh Andri guardi gli anime? Nell'ultimo periodo no Però in genere sì Infatti guarda che bella skin del mech che c'hai Perché il mech Non guarda gli anime No non Non ce la faccio a vedermi Le serie anime Sì ma perché? Perché preferisco vedere una serie normale No Voglio sentire adesso perché Non ti guardi gli anime e le serie Cioè Perché non ci sono cose che mi prendono Ok Quindi dipende dal genere Giusto? Può dipendere dal genere Sì Ma preferisco Se devo guardarmi la tv Preferisco guardarmi una roba normale Di costo che una cosa animata A prescindere che sia giapponese Italiana o meridionale Già litighiamo al primo episodio Secondo me è perché non hai mai visto un anime giusto Allora Questo discorso Mi farà impicchiare Questo discorso lo feci già con Mangaka Che mi consigliò un anime E io ho detto Bro molto bello però Sì cioè Rimane il fatto che non mi interessa Vedere gli anime E poi che anime dovrei vedere Ma dove cazzo è Vic? Sono al villaggio Sono sul ponticello Ah Ma che ponticello? Eh qui Cosa è qui? Dove c'è il ponticello Villager Casette Colture Salto della pace Andiamo Andiamo ancora Non mi piace come bioma E se voglio Credo lo aggiungano nel prossimo update Questo bioma Lo di lion Miche che vuoi giocare a Roblox Venerdì se vuoi Mamma mia Oh Vic Quello delle biciclette Ti prego Ma non mi sente? Sì Eh merdici sì Allora Qui siete dove tramonta il sole? Sì Niente L'abbiamo perso Secondo me è di là Dove c'è solo gli alberi bianchi Porco È tutto Stoveculla Aspetta Salgo sopra Di qua Di qua Di qua Penso Aspetta prendo una torcia in mano Magari mi vedi meglio No minchia Cambiato proprio completamente tutto Chiudi Abbasta quella luce che Uh La luce sarà la nostra via Ho paura Mamma mia C'è una cosa Dormiamo? Così arriva il giorno No Ma te la vedi la foresta che va in fiamme? Con gli alberi non bianchi? Esatto Eh sì Eh no però Aspetta Con gli alberi non bianchi Quelli lì che bruciano Che sono diversi No non la vedo Ma non è possibile allora Sto arrivando Sto arrivando Ma dove? Dove? Eh Boh Verso gli alberi che bruciano Ma non li vedi Hai detto No li ho visti Aspetta guarda Vedo le torce Come avete messo delle torce Fermati Eh no So io dov'è Sulla riva Vic Sì sono sulla riva Vedi là la torcia che brule Vedi il fuoco Vic? No Vedo gli alberi brillare Aspetta What? Qua Secondo me c'è il villaggio Vedete la zucca per l'achievement? Nice Ma puttana che dolore che mi ha fatto Puttana Eva che male Scusa Ti ho colpito per sbagli Eri davanti Micah che sbaglio Questo sbaglio mi è costato sette cuori Vic dove sei? Qua Qua No 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 Andri No Andri Ti rendi conto spero Conta che io ero tipo lontanissimo Eri lontano Vic era letteralmente affianco a me E quindi cosa è successo? Non ho capito aspetta Eh appunto dove sei? Chi? Ma chi chi? Tu? Sono andata avanti Ma dove avanti? Avanti avanti Ma quanto avanti? Non so dove vi siete fermati Sei arrivato in Brianza Sì Ma forse era meglio allo spawn Forse era molto meglio lo spawn E ora? E ora? Possiamo andare dritti o a sinistra Io sto andando a strano Cosa vuol dire? Lo sai? Eh quello è un problema Si è perso? Oh No vabbè è entrato Vincso Permesso Permesso Hello Hello ma Bici Ho un'idea Andiamo sempre dritti Qua Aspetta Vincso dove? È qua C'è raggiunto Non sei qua Ok Ma perché si? Vincso Vincso Sì Grazie Gentilissimo Vincso? Posso farti una domanda così? Certo dimmi A chi si ispira la tua skin? No non lo so Non l'ho scelta io Però guarda come sono bravo Sugli alberi Che senso non l'hai scelta tu? No Non lo scelgo io Andiamo avanti Sì Forse è meglio passare in acqua Se c'è l'acqua qua intorno Quante cose non posso dire Peccato eh Oh Vincso da davanti Oh Cosa? Dimmi da meno due che non puoi dire No Qua 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 sulla destra Mantenete il passo Grifondoro Che passo strano Oh le canne servono No anche te no eh Ma che qua non è orribile Sì ci può stare secondo me Pandora 6 sì Pandoro Qua mi piace L'acqua esercita Il Marus Sì Poi esplorando intorno Sì poi ci accorgeremo Che ci sarà un villaggio A solamente 14.000 blocchi Da noi Dai Collegamento con i portali E via no? Ma esatto Ma io volevo fare domanda A Vic Perché lei è quella esperta Vic Quindi non facciamo una casa unica Ma facciamo ognuno la propria casa? Secondo me sì Un villaggetto Eh tipo una sorta di villaggetto Vogliamo farlo qui Proprio lì dove sei tu Vic Che siamo proprio bello Sì sì Cioè qua secondo me è bellissimo Perché è tutto un po' in pianura Quindi possiamo fare una sorta di villaggio Con piazza Tutto quello Queste cose qua Certo Sì 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 Io prendo la casa sull'acqua Che schifo A me serve Tanto spazio intorno Bello Però facciamolo Non troppo lontani No? No che siamo vicini Ma non troppo Che riusciamo magari a vederci anche Cioè nel senso Che poi se urli Cioè almeno ti sento Capito? Esatto Però io non vedo più nessuno E quindi mi sembra che non è che siamo troppo vicino Io sto di fianco all'acqua Eh sì sì Facciamolo tutti vicini Spariti Non c'è più nessuno Vabbè Cosa posso fare nell'acqua ragazzi? Eccoti Hola Musus Non è così È che se io mi perdo Trovo sempre te Brodere Siamo fatti l'uno per l'altro Il tuo diretta Non si sposcia dalla perfezione Con il mio Possiamo creare un buco nero Nelle forze che si attraggono a vicenda Vai Diego No Vieni qua Allora questa sarà casa mia Perfetto Chi che ha messo quelle zucche? Io Casa mia Ok quella è casa tua Chi sei casa mia? Linea e mezzo Facciamo la piazzetta Tipo mezzo Sì Quindi Allora intanto metto il letto Vogliamo dormire infatti? Eh mi sa che Vinks Se non ce l'ha il letto Aspetta No no ma ti pare che c'ho il letto Sto picchiando il legno Con un tocco di legno Che cosa da calabrese Dio madonna Tocco non mi sembra troppo di legno Però Eh Eh Dov'è Vinks Che gli do il letto Sto arrivando Sto arrivando Vedo una Una zucca Che palle Sono un botto D'eccitato All'idea di giocare a Minecraft Ma chi è che l'ho detto? A te Andri Vero oggi? Sì Ok dormiamo tutti Sono scivolato dal letto Andri guarda Eh poi te non stai abituato Magari nella tua Eeeh Vabbè Mi sembrava di aver capito cose strane No no A new emotion Aspetta che piazzo 2 Oddio Ma hanno condiviso dei francesi I reels Oddio Mi stanno condividendo i francesi Ma come si sono arrivati i francesi Fino a qua? Ok ok È una cosa grave eh Poi mi hanno già commentato Haha L'italiano Lascio conto No non è vero Come cazzo Sì ma come si fa una casa? Io non ho più pali di idee Adesso sarà diventato No io le ultime 3 serie che ho fatte di Minecraft Ho sempre fatto un palazzo enorme E credo che Adesso So cosa fare ora Un palazzo enorme No no Cazzo ma Che inventiva hai? No adesso ti fai una casa vera No Oddio Vabbè manco a far così però Chi è che sta usando già la TNT? Eh niente No è un classico vicino di Lituania Di Vick È normale Ah ok ok Quando consegnano le cose in Lituania Lanno le bombe a carta sotto la cosa Che pericolo Allora Servirebbe Allora Io vi faccio vedere che so bravo anche a costruirlo Dai Ma tanto non è che devi per Far forza costruire Senti 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 Vincenza eh Tranquilla Vincenza E lei si chiama Vincenza eh Ah davvero piacere Oddio ci sono le ceste Finalmente la federazione non ce le hai dovuto togliere Chi deve capire che cosa fare Far finta di capire Perché non ho la più palità di come si gioca Ma come? Eh voglio Dici vigile assai sto gioco assai Ehi come si fa una Puoi fare Allora Pensa a un tema No nel senso Tipo Sì Un tema Se ti vuoi ispirare a qualcosa O fare una classica casa Stile villager Inutile Sto pensando alle mie doti Daia Mi sta snobbando la casa che volevo fare Cioè sono le case che fa Cioè basilari Sì ci sta Però Puoi fare anche qualcosa tipo Non lo so un atomo Oh bello L'atomo figo No non cerco ragazzo Google Sto guardando delle idee dei miei coetanei Non so fare un cazzo Il cazzo guarda La gente fa delle cose assurde Io farò una roba Tre per tre in terra Che comunque Che comunque Maledotto è No ragazzi è difficile anche quello eh Cioè comunque la terra la devi scavare Regà datemi una mano Datemi una mano voi Che almeno sembra che so fare qualcosa Eh Ditemi qualche cazzo di idea Su come possiamo fare le robe Una casa a forma di R1 Un po' difficile amore mio Ah parla vita Troppo easy Un castello in mediale No non mi piacciono le cose da Non mi piacciono Un palazzo grigio Con un buco che va in bas Ma che difficile Fra è difficile in culo calazzico Che troia Io guarda che sto sudando No io non so se trolli Ma io ho difficilità Ma che parlare Ma che parlare è l'ultima cosa che mi esce Ma ragazzi Io sto avendo una paura Io non so costruire Ma non devi andare in panico Per una casa Poi anche a dormirci la notte E domani decidere Vic basta di mettermi ansia È rotto Sì Effettivamente diventa veramente anserito Come la situazione Ma poi arriva lì Ti guarda dentro le casse Come per dire Ah non stai fare un cazzo Ho fatto la mia casa E io Coglione Dove? Non la vedrei mai Stupendo Ho un'idea Pensa a un film E faccio la casa uguale Anche esatto Hogwarts Fai Hogwarts vecchio Brother Nemo Un sasso Quella di Patrick Letteramente un sasso Cazzo Metto un pezzo di pietrisco Ho iniziato Ho iniziato Ho iniziato Che spavento Scusami vecchio Sono gasato Ho già fatto l'inizio della mia casa Il primo blocchetto hai messo giù Sì Ho iniziato a durare A me ha messo un blocco Ma perché mi devo complicare la vita Sempre io Soprattutto con i cerchi Però mi piace Ora La cosa più banale È costruire un cerchio su Minecraft Tazzi Abbiamo provato a fare degli atomi Com'è andata Dopo che abbiamo iniziato a fare gli atomi Pandora è fallita Cioè nel senso Quegli atomi hanno rovinato completamente Il tutto quanto Il buco nero Perché erano troppo grossi Brodo era un... Era un... Era un... Era un... Heheheheh Tu 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 Ma ferro Ah! Ah! Che è successo? Che è un grebo Porco di... Vediamo� Grazie a tutti.